Un saluto dal Tg della mobilità. Abbonamento annuale al trasporto pubblico a costo ridotto per gli studenti romani con meno di 16 anni. Il costo dell'abbonamento annuale Metrebus Roma agevolato va dai 30 ai 70 euro a seconda dell'Ise anziché 250 euro. Le domande si presentano sul sito dell'Atac. Secondo le stime del Comune sarà possibile erogare circa 16.000 abbonamenti under 16 agevolati utilizzabili a partire dal mese di agosto. Adesso le altre notizie. Nella zona centrale della città ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti su via Palestro 8, le linee di bus deviate, dettagli su muoversiaroma.it